Buonasera, siamo qui per parlare di donne e lavoro. Innanzitutto questo è un programma promosso dall'ufficio della consigliera di parità della provincia di Perugia che vuole, parlando di donne, esplorare la dimensione lavoro, una dimensione che presenta lati veramente preoccupanti dal punto di vista della violenza contro le donne e delle discriminazioni nei loro confronti. Ne parleremo ampiamente citando dati e fatti con la consigliera di parità della provincia di Perugia Gemma Bracco e con Vanda Scarpelli della CGL regionale. Bene, a questo punto non ci resta che aprire appunto il nostro salotto a una conversazione, piuttosto però diciamo non è una conversazione rilassante, a una conversazione che vuole cercare di informare ma anche di far luce, ma anche di incoraggiare quello che occorre fare da parte delle donne per riuscire a uscire, per riuscire a uscire, perdonatemi il bisticcio, per riuscire a uscire da una condizione, quella appunto delle donne nel mondo del lavoro, ormai anacronistica e che ci tiene ai margini dell'Europa addirittura. Allora Gemma Bracco, Anna Maria Furlan che è la segretaria generale della CISL scriveva qualche settimana fa una lettera a un grande quotidiano italiano e dice Secondo l'Istat i rigatti sessuali sul lavoro sono un'orribile realtà anche nel nostro paese, colpiscono tantissime donne, sono oltre un milione quelli che li hanno subiti nel corso della vita, quando cercavano lavoro, quando volevano fare carriera o semplicemente svolgevano la propria attività, ma questa è solo la punta di un iceberg. E allora l'iceberg? Come è fatto l'iceberg? Allora l'iceberg è fatto, cogliendo la provocazione che lei mi ha posto, che purtroppo la segretaria Furlan ha semplicemente scoperchiato il vaso di Pandora, cioè ha evidenziato una dinamica che è sempre esistita, che attualmente per fortuna o purtroppo è attuale, ovvero se ne parla con ricorrenza e ci si è resi conto che esiste. Però non è che esiste da oggi, è chiaro, esiste da sempre, perché purtroppo il genere femminile, e mi interrogavo proprio su questo due giorni fa, perché? Perché le donne sono sempre sottoposte a ricatti, a minacce anche e soprattutto basate sulla loro appartenenza al sesso femminile appunto, anche nei posti di lavoro, cioè anche nel momento in cui invece dovrebbero valere altri principi, cioè la loro competenza, le loro capacità, la loro voglia di lavorare, la loro esperienza. Invece no, viene richiesto ad esempio in alcuni ambiti addirittura la bella presenza, la disponibilità, il sorriso, tutte cose e tutte caratteristiche che non riguardano il mondo del lavoro, che non dovrebbero riguardare la possibilità di lavorare o meno, di un individuo o di una donna in questo caso, di un appartenente al genere femminile, perché non avviene di contra al genere maschile, il quale non è che viene giudicato se è bello o brutto o se è alto, basso, grasso o magro o disponibile, ma viene giudicato se è bravo, competente e capace a svolgere quello che necessita e quello di cui l'azienda o appunto il posto di lavoro che va a ricoprire ha bisogno. Quindi lo trovo veramente anacronistico, perché parliamo tanto di progresso, ma in realtà il progresso non è poi così, non esiste e non trovo nemmeno, non dico giusto perché di giusto non ha proprio nulla, ma non trovo nemmeno in un mondo occidentale tollerabile da nessuno che purtroppo le donne vengano condizionate anche nel momento in cui chiedono una semplice esecuzione di quella che è la loro voglia di vivere, cioè il lavoro che è il momento in cui una donna chiede appunto di che gli spetti ciò che è giusto che sia così. Vorrei citare un altro pezzo della lettera di Anna Maria Furlan che dice che sono più di 7 milioni le donne italiane che nel corso della propria vita hanno subito una forma di violenza o abuso. Parliamo di 4.000 casi ogni anno tra stupri e tentati stupri, una media di 11 al giorno, ma quello che impressiona è anche la violenza, l'autoritarismo che si riscontra nei confronti delle donne nei posti di lavoro. Allora, se è assolutamente odioso che una donna venga infastidita, per non dire di peggio, in quanto donna, è anche odioso che questo avvenga sul posto di lavoro, laddove dovrebbero essere all'attenzione la professionalità, la capacità, la serietà e non certo l'appartenenza di genere. Vanda Scarpelli, insomma, il sindacato su questo come la pensa? Il sindacato su questo, appunto, anche con le parole della Furlan, ma anche la CGL, la stessa Camus, insomma, più volte ha evidenziato questo fenomeno di violenza che purtroppo è nei posti di lavoro, ma non solo, perché la violenza si esercita soprattutto dentro alle mura domestiche, ed è esercitata purtroppo in gran parte da uomini che amano, dovrebbero amare o comunque dovrebbero tutelare le donne. Nei posti di lavoro, certo, in una situazione peraltro di crisi, come quella che stiamo vivendo adesso, dove il lavoro ce n'è sempre meno, e ce n'è sempre meno purtroppo anche per le donne, essere sottoposte a molesti, essere sottoposte a discriminazioni purtroppo diventa quasi una ritualità. Non è facile, peraltro, far emergere questo fenomeno, lo dico perché chiaramente sono poche le donne che si rivolgono anche alle organizzazioni sindacali denunciando in maniera aperta queste problematiche, perché a rischio c'è proprio il lavoro, c'è proprio la fonte del sostentamento, c'è una questione che si collega anche con la propria dignità, quindi non è semplice, ma è un fenomeno sommerso ma che esiste e va ovviamente messo in evidenza. Noi come organizzazione sindacale comunque abbiamo i nostri sportelli, che sono sportelli di servizio, a cui chiediamo, consigliamo alle donne di rivolgersi e di denunciare. Ripeto, queste denunce però sono veramente poche, perché la donna si scontra poi con una realtà sociale e anche economica che è difficile. Dunque, una situazione difficile. Intanto diamo alcuni dati. L'occupazione femminile in Italia è del 45%, in Umbria 52%. Bisogna fare una considerazione, è una considerazione amara che ci porta a considerare che negli anni 90 del 900 le donne stavano meglio, c'erano più prospettive. Oggi invece una donna su due non lavora e non lavorerà mai. E se lavora, avrà un trattamento economico inferiore ai maschi e una pensione molto ridotta, sempre rispetto ai maschi. In Italia, più o meno, la media, la differenza è circa il 30%, del 30%. Ma sindacalmente questo non è accettabile, perché nei contratti questo non viene affermato? Non è una questione, diciamo, contrattuale. È una questione che è legata alla valorizzazione professionale e fondamentalmente alla contrattazione aziendale. Ovvero, intanto volevo dire qualcosa sulla percentuale in Umbria, perché è vero che è una percentuale superiore alla media nazionale, ma l'Umbria da sempre ha avuto, da sempre, nel senso dal dopoguerra in poi, ha avuto una presenza femminile nel lavoro elevata. Questa presenza è diminuita in questi ultimi anni, a causa chiaramente della crisi, però va evidenziato e comunque è una buona presenza. Ma dove sono le donne che lavorano in Umbria? In Umbria le donne lavorano in gran parte nei lavori di cura o nel terziario. diciamo, comunque, in tutti quei lavori di servizi e che ovviamente hanno, diciamo, anche una, ovviamente no, ma insomma hanno una remunerazione collegata appunto alla prestazione fatta e quindi abbastanza bassa. Dicevo, la differenza salariale sta nella contrattazione aziendale, perché per esempio le donne si ammalano o comunque si ammalano nel senso che sono fuori, diciamo, dall'attività lavorativa, magari non solo perché hanno un carico di lavoro maggiore, anche familiare, ma perché magari hanno un carico di lavoro di cura, cioè devono magari assistere i propri familiari, hanno bambini piccoli. E quindi, diciamo, che l'assenza del, magari, dal posto di lavoro è maggiore rispetto agli uomini. E questo chiaramente è penalizzata nella contrattazione aziendale, nel senso che le assenze non vengono remunerate. Oppure le donne, per esempio, hanno meno possibilità degli uomini di fare corsi di formazione, di fare esperienze anche di cadiera all'interno del loro posto di lavoro. E questo chiaramente viene penalizzato con una diminuzione di salario. Però perché questo non avviene in altri paesi dell'Europa? Eh, non avviene perché in altri paesi dell'Europa il welfare, che è, diciamo, questa parte importante di sostegno alle donne, è un welfare forte. Abbiamo paesi dove ci sono servizi per l'infanzia che accompagnano la crescita dei bambini, ci sono dei servizi che tendono a curare, comunque a mantenere gli anziani, per esempio, nel loro domicilio e a avere una cura efficace senza avere la presenza, magari, delle figlie o delle nuore, insomma. È una condizione proprio italiana, è una condizione italiana. È una condizione italiana perché il welfare è più debole rispetto ad altri paesi, questo sicuramente. Dunque, si stima che siano 1.404.000, l'8,9%, le donne che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro, 425.000, 2,7%, negli ultimi tre anni. Dunque, con riferimento ai soli ricatti sessuali sul luogo di lavoro, si stima che nel corso della vita 1.173.000 donne, cioè il 7,6%, ne sono state vittime per essere assunte o per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni di carriera. Gemma Bracco, diceva anche Wanda Scarpelli, però le denunce sono poche, ma perché? Infatti, questo volevo dire, che il dato è allarmante perché i casi sono tantissimi, ma anche si dice, questo è il dato che conosco io come esperta di violenza di genere, che una donna nella sua vita su tre ha subito una violenza sessuale e, ovviamente, intendendosi per violenza sessuale non soltanto lo stupro, perché anche qua ci si deve intendere quando si parla di concetti. La violenza sessuale è una sfera più ampia rispetto allo stupro, ovvero alla congiunzione carnale-violenta, perché per violenza sessuale il nostro codice penale interpreta anche casi di toccamenti, sfioramenti, situazioni comunque che hanno a che fare con la sfera sessuale, non soltanto quindi la congiunzione carnale di qualsiasi genere. Purtroppo, diceva lei, il dato è veramente allarmante, ma più allarmante ancora è l'immersione del fenomeno che non avviene, perché se un milione di donne si stima e più si stima sia in Italia siano sottoposte a ricatti sessuali, probabilmente di quel milione moltissime hanno subito già ricatti sessuali e forse hanno subito anche moleste sessuali, ma non vengono, non emergono, non vengono conosciute e non arrivano anche nell'ambito più, diciamo, massimo, c'è quello appunto della denuncia penale, non arrivano, perché moltissime donne non lo fanno per paura, per paura di perdere il posto di lavoro, per paura di non trovarne altri, perché la mentalità purtroppo in questo senso è anche di reticenza e vorrei dire, assumendome la responsabilità anche di connivenza, perché se si giustificano certi comportamenti, anche quelli che una volta si diceva essere quattro chiacchiere al bar, si commenta sulla signorina, magari, non so, l'impiegata dell'ufficio, che ha la minigonna, che ha il taccaspillo, la calza che evidenzia le gambe, già quello è comunque un comportamento che non deve essere usato, perché viene giudicata una persona, una donna per come è, non per quello che fa, ma per come è, che fa nel lavoro, quindi cambiare la mentalità. Io mi volevo un attimo riallacciare al discorso che faceva prima sul discorso dell'occupazione femminile, della situazione italiana. Oltre tutte le cose giuste che sono state dette, e cioè che è appunto la crisi, l'occupazione anche nella nostra regione, che è legata soprattutto appunto a cura, eccetera, però il problema delle donne che non lavorano in Italia è anche un problema culturale, ovvero purtroppo cresciamo con l'idea che la famiglia sia tutta esclusivamente sulle spalle della donna. Quindi anche il lavoro di cura, di cura dei bambini, di cura degli anziani, ricade tutto, anche il pensiero solo sulla donna. Cioè se in una famiglia si deve decidere chi dei due si sacrifica, ad esempio, per chiedere un part time, non potendo lavorare a tempo pieno perché ha bambini piccoli o persone anziane o disabili, non ci si interroga due volte su chi sia, cioè se lo fa l'uomo o la donna è quasi scontato. Io penso che le statistiche su questo ci insegnano. Cioè il part time, soprattutto nella pubblica amministrazione o comunque nelle aziende, nel lavoro diciamo di pubblico impiego o di impiego, è pochissimo quello che viene chiesto dagli uomini, è quasi sempre chiesto dalle donne. Ma l'indice più eclatante è quello del congelo parentale, che nonostante le leggi, nonostante le direttive europee, nonostante comunque i cambiamenti anche epocali, non viene richiesto. Cioè in Italia il part time retribuito, che attualmente è di tre giorni pieni, non viene richiesto. Non viene richiesto mai, quasi mai. Cioè abbiamo percentuali bassissimi, cosa che non è negli altri paesi europei. Non è così. Ma non soltanto nei paesi virtuosi del nord Europa, la Scandinavia, quindi la Norvegia, la Svezia, della Finlandia, dove il welfare è un welfare di protezione altissima, ma perché lì hanno altre tutele economiche, non c'è il debito pubblico, quindi si possono permettere, hanno molti meno abitanti di noi, un reddito pro capite più alto, una disoccupazione più bassa, quindi possono permettersi di tutelare anche le situazioni, dicevamo, di bambini, asili nido, eccetera. Ma il congedo parentale viene preso, viene goduto, si usufruisce del congedo parentale in Francia, in Germania, in tutti i paesi europei, in Spagna, solo in Italia, perché è una questione culturale. Perché a me viene detto, è stato detto, ma io mi vergogno, un uomo che chiede il congedo parentale, i miei colleghi mi deridono. Ecco, cambiamo la mentalità. Allora, questo significa che noi siamo vittime di una società piuttosto maschilista e che verso la donna è magari eccessivamente perbenista e ipocrita? Allora, ma non è una questione di maschilismo o di femminismo, è proprio una questione di ruoli, di stereotipi. Cioè i ruoli sono, i figli vengono cresciuti almeno fino a tre anni dalla madre, gli anziani non autosufficienti sono gestiti, ripeto, anche nel trovarla, la badante, non è che materialmente lo fanno, dalle donne. È inutile, è la verità, è cruda detta così, però è così. La figura della donna in Italia è relegata in questi ambiti che sta dicendo lei? Non è relegata, adesso io non ho detto questo, ho detto che per ciò che riguarda quelle situazioni è una problematica che riguarda solo le donne. Poi le donne è chiaro che vogliono adesso, soprattutto le giovani donne per fortuna, studiano e vogliono anche o lavorano, vogliono una emancipazione. Ma lo sa però qual è stato l'effetto che viene poco valutato, ma che io già sono due o tre anni che vado dicendo? Quello della natalità. Cioè in Italia non si valuta bene il dato, ma è drammatico, la natalità in Italia è quasi a zero. Siamo il paese con il tasso di natalità più basso del mondo moderno, democratico occidentale. In Italia i figli non si fanno più, le giovani donne non fanno i figli. E la ragione è questa situazione di immaginazione? No, non è che è un insieme di situazioni, ma il discorso del lavoro, dell'emancipazione ed è il problema grosso dei figli che ricade solo sul genere femminile, è sicuramente delle cause. Certo, infatti siamo al corrente che una delle domande più frequenti nei colloqui per trovare il posto di lavoro è quella se appunto una donna ha i figli oppure ha intenzione di averli. Dunque volevo citare alcuni dati sempre dal report dell'Istat. Dunque sono 167 mila le donne che hanno subito queste forme di ricatto di cui stiamo parlando negli ultimi tre anni, cioè l'11,1%. Al momento dell'assunzione ne sono state colpite più frequentemente le donne impiegate, il 37,6%, o se lavoratrici nel settore del commercio e dei servizi, 30,4%. La quota maggiore delle vittime inoltre lavorava o cercava lavoro nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, il 20%, e in quello del lavoro domestico, 18,2%. Panta Scarpelli, queste percentuali, che cosa le dicono? Intanto, appunto, come diceva anche la consigliera, probabilmente questi dati sono dati che sono emersi, ma ce ne sono molti altri che non sono emersi. Quindi anche il fatto di evidenziare che nelle attività professionali vengono più denunce, probabilmente dato anche dalla capacità di reazione e anche culturale delle donne a cui sono state fatte queste molestie. Probabilmente le donne più semplici, diciamo, anche dal punto di vista culturale o comunque le donne che hanno una minore contrattualità lavorativa fanno più fatica a far emergere questi dati. Però mi consenta di sottolineare il fatto che il dato vista parla anche che nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche il 20% delle donne subisce molestia. Sì, appunto, nel senso che comunque è un settore... È un settore però dove c'è, diciamo, parecchia istruzione. Eh, no, 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 ma infatti io dicevo, dove più alta è il livello di istruzione, probabilmente anche più alta è la capacità delle donne di denunciare questi fatti, no? Proprio perché c'è una capacità poi di far emergere il problema. Dove, diciamo, le donne sono meno contrattuali dal punto di vista economico, è più difficile che la donna stessa denunci, molestie, magari le subisce, magari, come dire, fa da sola, cioè cerca di rimediare da sola al fatto. Oppure, come diceva prima la consigliera, ci convive in qualche maniera, no? Cioè nel senso che meno capacità contrattuale hai, anche dal punto di vista economico, ma ripeto anche culturale e più è facile che sei sottoposta, purtroppo, a questo tipo di molestie e anche di discriminazioni. Bene, mandiamo in onda alcune interviste che abbiamo appunto fatto sul campo ad alcune lavoratrici. io sono Anna Elena Stocchi, sono di Firenze e mi sono trasferita qua dall'inizio del 2000 e sono venuta qua in Umbria per lavorare per Antognolla, che è il golf club che c'è sulla strada che va verso Umbertide. E niente, sono venuta qua a fare la cuoca, se non che dopo un anno l'hanno chiuso. Dopodiché sono entrata nel circuito delle menze scolastiche attraverso l'agenzia, attraverso l'ufficio di collocamento. Dunque io oltre a essere una cuoca che lavora adesso per le cooperative nelle scuole della comune di Perugia, sono anche la delegata ormai da ben più di 15 anni, di tutte queste donne che inizialmente parecchie di loro uscivano già da dei percorsi lavorativi abbastanza drammatici, per cui si parla di donne che hanno lavorato per anni in fabbrica, per anni presso altre ditte, che però in un momento di crisi hanno dovuto abbandonare il proprio lavoro per poi riuscire a entrare in questo circuito. Entravamo con l'ufficio di collocamento, prima con 3 ore, 4 ore, 5 ore, non di più, però c'era di buono che d'estate riuscivamo a prenderci una disoccupazione. Adesso invece lavoriamo con le cooperative perché questa tipologia di lavoro è stata appaltata a una serie di cooperative e loro sinceramente ci hanno dato un posto di lavoro a tempo indeterminato, però il problema è che la scuola e il comune di Perugia sono aperti solo 9 mesi, per cui noi gli altri mesi stiamo a casa come se non pagassimo l'affitto, come se non dovessimo mangiare o fare la spesa. L'unica cosa però è che comunque a settembre quando ricominciavano le scuole avremmo ritrovato il nostro posto di lavoro, che di questi tempi non è poco, però comunque bisogna sempre considerare che lo stipendio di 9 mesi spalmato su 12, insomma non è in granché, perché le cooperative intanto già hanno tolto le ore, diverse ore da quello che era il programma invece iniziale delle donne che lavoravano per il comune, per cui un po' di soldi in meno perché le ore sono meno, 3 mesi senza stipendio, insomma non è il massimo della vita per una donna, che fra l'altro come sappiamo tutti la donna ha un sacco di problematiche perché c'è la famiglia, perché c'è una casa, perché ci sono gli anziani, ci sono i genitori da dover badare, insomma il lavoro delle donne come sappiamo è sempre sulle spalle nostre, no non solo il lavoro delle donne, è di tutto quello che è la cura della famiglia, a cominciare dai piccoli a finire dai vecchi. Per cui insomma non è un granché, questo momento storico, tutti dicano ah il lavoro delle donne è aumentato, le donne sono quelle più impiegate in questo momento, sì sono impiegate grazie, fanno lavori di cura in tutte le tipologie, dalle pulizie negli ospedali a fare le cuoche nelle menze scolastiche, a fare le badanti, cioè in più hanno il carico di lavoro familiare che non è poco, perché io per quanto mi riguarda non ho avuto figli, ma le donne lavorano a me, ce n'è una balla e hanno diversi figli, addirittura ce n'è una, ce n'ha sei e veramente non so come possa portare avanti una vita con un lavoro a tre ore, quattro ore, la mattina la chiamano, devi andare di qui, devi andare di là, insomma non è così semplice il lavoro delle donne, non è semplice perché innanzitutto non siamo comparate neanche a livello di stipendi, perché il tetto di cristallo non è una cosa inventata, è una realtà, se mettiamo insieme la tipologia di lavoro femminile e maschile ci sono dei grossi sbalzi di soldini, per cui appunto il lavoro delle donne non è un granché. E comunque sia c'è anche da dire che sui posti di lavoro con questi chiari di luna per com'è adesso il mondo del lavoro è drammatico, perché spesso e volentieri viene anche ricattata, non è il nostro caso, però io parlo anche per altre donne, perché seguo anche altre situazioni all'interno della CGL per quanto riguarda le donne, avendo anche un'associazione che si occupa della violenza sulle donne, per cui le realtà sono infinite e sono veramente drammatiche, non per tutte naturalmente, perché c'è anche chi invece ha avuto la possibilità di trovare un posto di lavoro, perché poi sempre dipende dalle persone che ti trovi davanti, un posto di lavoro dignitoso. Non che questo non sia dignitoso, però insomma questo fatto per noi è abbastanza grave, questo fatto che noi per tre mesi non riusciamo né a prendere stipendio né tantomeno a avere dei soldi per poterci pagare i contributi, i contributi che poi ci aiuterebbero ad andare in pensione, perché credete andare in pensione a 67 anni dopo 43 anni di contributi pagati e ritrovasse 600 euro veramente è indegno, indegno. Bene, dall'intervista emerge questo disagio, questo disagio enorme che anche voglio evidenziarlo, si evidenzia anche qui nel rapporto Istat dove si dice che la grande maggioranza delle vittime, cioè il 69,6% ritiene molto o abbastanza grave il ricatto sessuale subito, ciò nonostante nell'80,9% dei casi le vittime non ne hanno parlato con alcuno sul posto di lavoro. C'è questa riservatezza che è già stata spiegata da la consigliera Bracco, ma c'è anche una riflessione che dobbiamo fare in merito a forme di violenza che nel frattempo sono nuove e si appoggiano ai nuovi media, si appoggiano alla nuova tecnologia disponibile, è quella, la violenza sul web. Abbiamo casi eclatanti, se non sbaglio, e la violenza sul web avviene sia nel mondo del lavoro che nel mondo domestico e altrove. Sì, la violenza sul web, i social network, eccetera, è pericolosissima e soprattutto ha colto un po' tutti impreparati perché non vi sono normative attuali che possano seriamente non soltanto intervenire ma anche prevenire la dirompenza dell'effetto dell'amplificatore della rete perché noi sappiamo tutti, questo l'abbiamo imparato con internet, che internet per sempre, che non si può pensare di arginare una volta pubblicata ad esempio un'immagine intima di una persona, di cancellarla. Questo è veramente impressionante, non siamo preparati, anche il nostro codice penale non è in grado di tutelare le vittime di questo tipo di condotta. dobbiamo valutarla bene e intervenire con la prossima legislatura anche a livello appunto di Parlamento e di leggi perché pensare che ad esempio delle ragazze che così anche in giovanissima età inviano delle foto intime ad esempio ad un fidanzatino e questa foto venga o dall'amico o dal fidanzatino perché magari non lo so, viene in qualche modo convinto da un amico a pubblicarla, ecco quella foto rimanga per sempre, è stato anche motivo di suicidi icratanti, quindi di atti gravissimi, è impensabile, si deve intervenire. Tra l'altro un social network forse il più usato, avendo la sede all'estero negli Stati Uniti, mi dicono che si avvalga spesso delle normative degli Stati Uniti, quindi è anche difficile poter andare a chiedere, quindi verificare quando l'immagine lesiva, chi l'ha pubblicata, quindi anche qui dover imporre ad esempio comunque una fonte, una certezza della fonte, cioè non si può pubblicare un'immagine in modo autonomo quando compie un reato penale che in questo caso è palese, cioè è evidente perché se fosse fatto ad esempio con un giornale o con una televisione sarebbe comunque reato diffondere un'immagine lesiva della tua reputazione senza il consenso, quindi va assolutamente valutata e si deve intervenire. Tra l'altro a me è capitato anche quando andammo alla camera in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ci furono delle testimonianze 25 novembre, ci furono delle testimonianze proprio di una madre, di una ragazza che si era suicidata in seguito all'aver visto la propria immagine intima messa alla mercè della vista di tutti, perché era stata pubblicata quando lei l'aveva inviata al fidanzato, quindi in Italia non c'è tutela, quindi mentre nei paesi anglosassoni sono molto più rigidi e lì si può intervenire, quindi dobbiamo anche secondo me a livello di Unione Europea si dovrebbe fare qualche norma che valga per tutto il territorio quantomeno dell'Unione Europea per poter intervenire, aiutare soprattutto come prevenzione perché ciò non avvenga, però è che per fortuna e con questo termino di recente è entrata in vigore la norma sul cyberbullismo che in qualche maniera è riuscita a mettere una toppa su un'altra vicenda molto grave, però la toppa è stata messa in modo serio sui minori, che lì si può intervenire anche preventivamente, oscurando il sito eccetera, mentre per i maggiorenni no, perché se non sono ravvisabili nel caso di specie l'unico reato configurabile che è la diffamazione, in tutti gli altri casi non si può fare niente, mentre invece si dovrebbe intervenire come lo sia fatto ad esempio con la privacy, con una legge ad hoc e ad esempio anche con un'entità, quindi con un'ente come il garante per la privacy che tuteli non soltanto situazioni incatanti di codice panale, ma anche lesivi ad esempio, non lo so, dell'onore del decoro in modo più blando secondo me, non è la mia opinione. Certo, anche perché nei luoghi di lavoro ci sono vari modi di fare violenza nei confronti delle donne, intanto una delle prime occasioni nelle quali capitano questi fatti incresciosi è quella del colloquio, la fase del colloquio e poi abbiamo il famoso foglio di dimissione in bianco che viene fatto firmare alle donne perché in caso di maternità possano essere licenziate senza problemi. E poi c'è il discorso dell'avance che possono avvenire in qualsiasi momento della giornata in qualsiasi forma. La violenza verbale è anche questa, è una forma di violenza che colpisce le donne, ma le donne non solo, però in questo caso stiamo parlando di donne e va annoverata perciò come violenza vera e propria. E poi ci sono i ricatti, i ricatti che vengono non solo effettuati dal datore dicendo ti licenzio, ma i ricatti che vengono effettuati, come dicevamo proprio adesso, utilizzando le nuove tecnologie, foto, video, telefonini, tutto può servire per ricattare una donna e per costringerla a soddisfare i propri desideri. E poi c'è il discorso della carriera e del salario. E poi alla fine c'è la discriminazione anche sui licenziamenti. Se si deve licenziare qualcuno si licenzia con più tranquillità una donna che un uomo. Dunque, tutto questo fa parte di un contesto nel quale il sindacato non è che è rimasto indifferente. No, non è rimasto indifferente, anzi direi che noi in particolare come organizzazione sindacale, come Cigelle, stiamo svolgendo diciamo una battaglia però a 360 gradi in questo caso. Cioè noi per evitare le discriminazioni in particolare sulle donne, ma per evitare le molestie, per evitare danni che sono diciamo anche alla propria dignità è necessario fondamentalmente rafforzare il lavoro e rafforzare le tutele sul lavoro. È necessario rivedere tutte quelle norme a partire dal Job Act che hanno sicuramente in gran parte indebolito il mondo del lavoro e anche purtroppo i lavoratori. Quindi io credo che la questione della discriminazione delle donne è una parte complessiva del rafforzamento delle tutele sul lavoro e dei diritti sul lavoro. Per fare questo appunto dobbiamo fare una battaglia insieme, una battaglia a 360 gradi. C'è un altro dato che voglio citare, un dato terribile anche questo, cioè il 32,4% dei ricatti sul luogo di lavoro avviene sia ogni giorno oppure più volte al giorno addirittura e le donne che subiscono ricatti tutti i giorni sul luogo di lavoro sono il 24,8%, una percentuale di tutto rispetto. Sì, purtroppo è una percentuale inquietante e però, ripeto, fa un po' questa percentuale evidenzia quanto in un momento di crisi, in un momento in cui il lavoro non c'è per nessuno, purtroppo si mettono in atto tutta una serie di comportamenti che sono, diciamo, appunto di delegittimazione della propria dignità, della delegittimazione del lavoro, di un abbassamento di quelle tutele che abbiamo conquistato nel Novecento. Ecco, è inquietante. Per uscire da questa situazione dobbiamo intanto, ripeto, rafforzare il lavoro e rafforzare le tutele. rafforzare il lavoro, rafforzare le tutele, rafforzare anche la convinzione, per esempio, che la voglianza sulle donne è una violenza che è una violazione dei diritti umani. Certamente. Infatti la Convenzione di Istanbul, che è l'atto più importante che c'è nel nostro ordinamento oggi in materia di violenza di genere, proprio prevede che la violazione, diciamo, la violenza sulle donne è, appunto, violazione dei diritti umani. Quindi questo ha permesso di porre in essere una serie di tutele anche in via preventiva e soprattutto di prendere cognizione del fenomeno della sua gravità, sia per ciò che riguarda i numeri, la ricorrenza e anche come avviene, perché spesso avviene in modo subdolo. E mi permetto di dire che la violenza di questo genere, cioè di quella di cui abbiamo parlato fino a oggi, cioè nei luoghi di lavoro, è quella forse più subdola, perché è quella meno conosciuta. Esatto. Ed è quella, sì sì, nella quale si... È quella meno conosciuta di cui si parla di meno. Si parla meno e di cui si ha più reticenza proprio anche a farla vedere, perché è una paura, ha timore di perdere il lavoro. In un momento, spazio temporale, dove appunto il lavoro è sempre di meno e sempre più precario, questo è un ricatto che purtroppo pesa, pesa, pesa tantissimo sulle donne. Pesa e pesa diciamo anche troppo, oggi come oggi non è più possibile pensare ad assecondare un andamento della vita lavorativa per una donna in questo modo. Cioè oggi come oggi sappiamo che una donna che va a lavorare mette in conto anche questo, mette in conto anche questo e molte volte mette in conto anche il suo silenzio, quanto le accade, no? L'abbiamo già detto. Allora, intanto questa sottovalutazione della violenza nei luoghi di lavoro, perché? Guarda Scarpelli, secondo lei? Sì, no, l'abbiamo un po' già detto, è una questione che riguarda fondamentalmente le paure, riguarda anche la, come dire, una propria tutela, è difficile per una donna ammettere o comunque denunciare molestie, uno perché comunque può andare incontro al licenziamento, due perché comunque c'è anche una cultura patriarcale che rimane dentro la nostra società e che comunque vede le donne appunto oggetto e quindi in qualche maniera, come dire, oggetti anche di piacere. Sì, ma c'è anche un ruolo, un ruolo non proprio, diciamo, incomiabile dei media, perché parlano magari più ovviamente di femminicidi che di invece questa costante violenza che si esercita nei luoghi di lavoro. Se parliamo dei media, adesso anche andando a, come dire, guardiamo con occhi un po' diversi anche le trasmissioni, possiamo vedere come i corpi delle donne sono molto svelati, sono molto, diciamo, utilizzati e vengono anche strumentalizzati spesso per le pubblicità, ma non solo negli spettacoli musicali, cioè sono corpi che sono davvero oggetti e in gran parte sono oggetti sessuali. Purtroppo questo appunto nei media, anche nelle televisioni, viene trasmesso in maniera quasi così normale, no? Anche in orari dove, diciamo, di ascolto, dove anche i bambini, i ragazzi possono tranquillamente vederli. Serve qui davvero una rivoluzione culturale che appunto, partendo dalla necessità proprio di rimodulare i comportamenti e quindi anche di aggredire tutta quella cultura patriarcale che ancora esiste in Italia, metta, diciamo, a tutela il corpo delle donne. E dunque, parlando di media, Gemma Bracco, dunque, perché i media non dedicano più spazio a questo discorso della violenza non solo quando diventa notizia eclatante, ma anche per far capire che è una quotidianità che va denunciata? Io penso che in questo non vedo malafede. Lo fanno perché probabilmente non si è realmente riflettuto sulla vastità del fenomeno e non si è considerata la gravità. Il discorso delle pubblicità è impressionante. Se uno legge i giornali, non i giornali quotidiani, giornali, giornali settimanali, mensili, femminili, ma non soltanto, e si un attimo intrattiene a guardare, soprattutto le pubblicità, è offensivo. Per una donna, vedere come viene usato il corpo delle donne. Anche per pubblicizzare una macchina, un profumo, un detersivo, c'è merendire, c'è sempre la donna nuda, nuda o comunque seminuda, in costume da bagno, corregi calze, cioè impose, impose, o se, ma non solo se, anche proprio molto provocanti, come se tutto afferisse al sesso. Cioè, sembra che ci sia una perversione sessuale dell'utente del giornale, che tra l'altro molto spesso è anche femminile. Cì, sì. È vero, anche sui giornali femminili. Io non lo coglievo, io stessa. Poi quando ho invece visto, ho parlato anche con studiose del fenomeno che, devo dire, vengono dall'estero, perché lì sono più avanti rispetto a noi, e soprattutto parlando con una sociologa, la quale mi ha proprio in un corso, anni fa, ci fece vedere la pubblicità di un famoso yogurt tedesco, come è in Italia come è in Germania. Cioè, fa impressione, lo stesso prodotto in Germania viene pubblicizzato con la capretta nel prato verde e il latte. In Italia con la signora nuda, cioè non nuda ovviamente, con la signora in costume da bagno, in costume succinti. Sì, sì, tutta stesa. Dice, ma perché in Italia viene usato così il corpo? Perché magari all'uomo latino piace vedere questa immagine della donna, questo famoso uomo latino. Però c'è anche quando si mancia lo yogurt, diventa anche una specie di diffusazione. Anche per fargli consumare lo yogurt. Deve essere incoraggiato. Però io dico adesso, non volevo fare pubblicità, o non, per carità, non voglio adesso creare anche problemi, insomma, non c'è che volevo dire, però... No, però è giusto, è giusto sottolineare. Mi fu riferito, insomma, da stato... È giusto sottolineare. ...la professoressa molto anche brava, insomma, io andai a vedere e rimasti allibita, perché in effetti uno non si rende conto, non vede, se non c'hai avanti qualcuno che ti fa vedere, non ti accorgi. Non ti accorgi, però vedi, questo consolida questa visione, no? Questa visione negativa del rapporto fra donna e lavoro, ma in questo caso la pubblicità, che per chi la fa, per le donne che la fanno, è un lavoro, è il loro lavoro o è quello di mostrarsi, di mostrare il loro corpo che viene utilizzato come attrazione per propagandare un prodotto. Ecco, e bisognerebbe rovesciare certi rapporti, certe considerazioni, certe culture, anche perché proprio quello che diceva Wanda Scarpelli, questa considerazione della donna oggetto entra a Tukur anche nel mondo del lavoro. La donna oggetto è oggetto, come abbiamo parlando appunto della pubblicità, come abbiamo detto, ma è anche oggetto quando va a lavorare in quanto donna. Prevale l'oggetto rispetto alla persona e per questo è anche più, diciamo, facile che vi siano delle molesti appunto verso le donne, perché è un oggetto sessuale fondamentalmente, non si riconosce un volto, una storia, una persona, un'identità, si riconosce in quel momento l'oggetto sessuale. L'oggetto sessuale. E poi c'è da fare anche un'altra considerazione, questa magari è un po' maligna, nel senso che c'è chi parla, molti articolisti che si stanno occupando del problema, c'è chi parla di una certa invidia da parte, un certo anche risentimento da parte maschile nei confronti delle donne che non solo stanno crescendo dal punto di vista culturale, ma stanno crescendo anche dal punto di vista di poter occupare posti di responsabilità importanti che prima erano riservati solo agli uomini. Eh beh sì, questo sicuramente c'è, è come dire, la paura della società patriarca è di diminuire il proprio potere, purtroppo le violenze anche familiari, le violenze verso le donne parlano sempre di potere, della necessità di mantenere la propria potestà rispetto magari alla moglie o all'amante o alla fidanzata. Cioè l'uomo purtroppo ha paura di perdere una proprietà che ritiene la sua proprietà, la proprietà privata, sempre non riconoscendo nell'altra una persona, non riconoscendo nell'altra non appunto la sua donna, ma una donna. Una donna. E allora molte volte anche nei posti di lavoro la presenza delle donne viene tollerata e molte volte rifiutata e poi come stiamo parlando appunto di violenza viene addirittura penalizzata con la violenza. C'era un fatto che mi colpì molto alcuni anni fa, cioè che un'agenzia di sicurezza, un'agenzia di vigilanza privata di una città dell'Umbria, non dico quale promosse una campagna di reclutamento sul territorio. E allora a questa campagna rispose anche una donna che si presentò al colloquio e siccome il colloquio era gestito non direttamente dalla società di sicurezza ma da una società di consulenza, nel colloquio si giudicò la donna la più idonea fra i candidati che si erano presentati. Bene, la proprietà dell'agenzia di sicurezza rifiutò il verdetto della società di consulenza e non diede alla donna il permesso di entrare in azienda. La signora si appellò ai sindacati e naturalmente siccome la cosa aveva ormai preso una piega nell'opinione pubblica abbastanza eclatante la soluzione fu va bene, ok, sarà assunta. Lei passò mesi e mesi seduta sul divano all'ingresso dell'agenzia nella quale era stata assunta fino a che naturalmente fu l'ovvia conseguenza di tutto ciò che fu costretta a dare le dimissioni. Allora, per contrastare il fenomeno non sarebbe opportuno, naturalmente penso che questo già sia in corso, però un modo è quello di promuovere campagne di divulgazione e di informazione pubblica sia sulle misure ai quali possano accedere le donne per controbattere a questa situazione difficile nel mondo del lavoro e sia per istruire anche gli uomini, i cittadini in genere su questo fenomeno che va combattuto appunto acquisendo la giusta cultura per combatterlo. Sì, sì, ma chiaramente la nostra Costituzione dice che noi siamo tutti uguali, senza distinzioni, la Costituzione parla di sesso, perché adesso è entrata in vigore la parola, si parla molto di genere, che è una parola che non è di origine diciamo latina, ma di origine tedesca. Siamo ormai, ormai la nostra lingua è invasa. No, invece il sesso di cui parla la Costituzione, l'articolo 3 invece rende più l'idea, perché dice tutti sono uguali di fronte alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di religione, eccetera. E ovviamente non soltanto dice sono tutti uguali, ma dice anche che la legge in Italia tutela e quindi mette in moto tutta una serie di tutelle affinché ciò, se ci sono delle distorsioni e non sono al principio di uguaglianza, si possono appunto porre in essere delle tutele. In questo caso proprio nello specifico quando c'è una discriminazione basata sul genere nel mondo del lavoro c'è anche la figura della consigliera di parità, che appunto mi onoro di rappresentare temporalmente, che può intervenire e compiere proprio per legge ogni azione utile al venir meno della discriminazione laddove esista, basata sul genere e anche al prevenire tale discriminazione. Quindi se si pensa di essere stati discriminati, come nel caso che raccontava lei perché si appartiene ad un genere piuttosto che ad un altro, in una situazione di lavoro, allora si può benissimo chiedere l'aiuto della consigliera di parità, la quale può compiere ogni azione utile e anche addirittura compiere un'azione di giudizio, andare in giudizio in modo autonomo, senza necessità che la parte intervenga anch'essa, ma semplicemente lo può fare la consigliera. Ovviamente prima si porranno la causa e l'estrema razio perché si porranno in essere tutte quelle che sono le tutele preventive, quindi colloqui, le richieste, le vertenze, chiederanno anche aiuto ai sindacati perché in questo caso sono importantissimi, però pensare che non soltanto le tutele sono astratte ma anche concrete, se no se non vengono applicate poi anche la nostra bella Costituzione diventa lettera morta. C'è arretratezza da parte delle politiche sindacali verso questo fenomeno? Non c'è arretratezza, diciamo che è un percorso che è stato avviato e dobbiamo portarlo avanti, sicuramente serve una rivoluzione culturale anche dentro le organizzazioni sindacali, nel senso che dobbiamo avere più attenzione verso questi fenomeni che spesso forse vengono un po' diciamo sottotacciuti. Bene, siamo al termine della nostra conversazione e del nostro programma che prevede ulteriori puntate e sempre sul canale 11 di TRG e vorremmo prima di concedarci dalle nostre cortesi ospiti chiedere al nostro pubblico, ai nostri telespettatori appunto la giusta riflessione sugli argomenti che stiamo trattando, argomenti che non possono essere soltanto conosciuti quando appare sui media il nome e la vicenda che ha portato ad un'offesa se non a un femminicidio vero e proprio, ma che giorno per giorno va acquisita una cultura di rispetto e di considerazione nei confronti delle donne e naturalmente prima di tutto sui posti di lavoro. Ringraziamo la consigliera di parità della provincia di Perugia Gemma Bracco e Vanda Scarpelli della CGL dell'Umbria. Buonasera a tutti.